Benvenuti ragazzi abbiamo avuto un nuovo video guida su Fortnite Oggi vi spiego come fare la missione alle sabbie sudate Infliggiamo 200 danni agli squali Ora andiamo alle sabbie sudate e vediamo Allora, è semplicissima questa missione Basta andare in una casa qualsiasi alle sabbie sudate Prendere un'arma qualsiasi, ok? Non dipende anche dall'arma E sparare allo squalo E possiamo notare che velocissimo, semplicissimo Ci potrebbe subito, come si chiama? Finire subito la missione Ora andiamo qua, visto che tanto c'è il vortice quindi non cambia nulla Prendiamo questi Ecco, come vedete io ho un FAMAS Salto nel vortice Ecco, questa è un'altra missione Quindi per fare la missione Un giro in un mulinello Basta andare in un vortice a caso in mezzo della mappa E finire anche questo Allora, come vedete mi spunta già la missione sopra a sinistra Non ci sono squali No raga, non ci sono squali Raccogli i materiali di costruzione Semplicissimo, anche questo Basta raccogliere Mille materiali di costruzione a caso Oppure se non sbaglio Possiamo anche rompere Questa è una delle prime missioni che fanno Che fa qualsiasi persona quando lo gioca Non so perché Ma perché non ci sono squali alle savie sudate? Edì Eccoci qua ragazzi Finalmente abbiamo trovato uno squalo alle savie sudate Lo miriamo E basta che gli spariamo un pochino Ok Oh mio Dio Ecco, come potete osservare Eh, lo squalo Cioè, mi ha dato subito la fine della missione E Ragazzi Si conclude qua il video Grazie mille Ora abbiamo Fatto tre missioni di seguito E ciao ciao